Oggi vi propongo una ricetta molto semplice, la tartare di rana pescatrice con pompelmo rosa. Vediamo gli ingredienti. Per quattro porzioni servono 600 g di codari rospo, un ciuffetto di prezzemolo, qualche rametto di timo, il succo di un limone, un pompelmo rosa, del pane integrale, olio, sale e pepe nero. Iniziamo col preparare la salsa citronette con il succo di limone e l'olio. Aggiungiamo al succo di limone il sale, il pepe e andiamo a mescolare. A questo punto incorporiamo l'olio a filo ed emulsioniamo. La giusta proporzione della salsa dovrebbe essere una parte di succo di limone e tre parti di olio. A questo punto andiamo a preparare il pesce. Eliminiamo quindi la pelle e togliamo la parte centrale. Quindi si taglia poi a fettine molto sottili ed in seguito la strisciolina. A questo punto trasferiamo la nostra rana pescatrice in una bolle di vetro e la condiamo con qualche cucchiaio di salsa, un po' di prezzemolo tritato, un po' di timo sfogliato. Nescoliamo bene per far insaporire il tutto e poi poniamo in frigorifero a riposare per almeno una mezz'oretta. Nel frattempo prendiamo avvirvi il pompelmo e ne richiaviamo delle supreme togliendo quindi la pellicina. Infine prepariamo i crostoni. Tagliamo il pane a fetti di circa mezzo centimetro e lo coppiamo con un coppapasta di circa 7-8 cm di diametro. Al momento del servizio non ci resta che tostare il pane in padello oppure in forno e assemblare il piatto. Adagiamo il crostone di pane sul piatto di servizio e andiamo praticamente a disporre sopra la tartare di pesce aiutandoci con un coppapasta per conferirgli una forma più regolare. Esercitiamo una leggera pressione e togliamo lo stampo. A questo punto guarniamo il piatto con le supreme di pompelmo. Completiamo infine il piatto con delle zeste di limone e un rametto di timo. Irroriamo con un altro po' di salsa citronette e serviamo. La tartare di pesce è un antipasto molto delicato che si presta ad essere inseriti in menù importanti come potrebbe essere ad esempio quello del Natale. Inoltre la rana pescatrice potrebbe essere sostituita da altre tipologie di pesce o addirittura da crostaggi come ad esempio gamperoni o scampi. Un saluto da Ancio e alla prossima ricetta.